Il tema di questo dibattito è la tecnologia lungo la filiera e visto che quando parliamo di tecnologie digitali parliamo non solo di commerce ma parliamo di tante diverse tipologie di tecnologie non solo nel rapporto col cliente ma anche lungo tutta la filiera e quindi io direi inizierei con un giro di tavolo per chiedervi dal vostro punto di vista delle tante tantissime tecnologie che si stanno affacciando lasciatemi dire dal campo fino alla casa del cliente quali tecnologie secondo voi stanno avendo gli impatti più grandi lungo le filiere e come le tecnologie di cui voi ci parlerete che stanno impattando sulla filiera ridisegneranno i modelli di business o la filiera stessa e quindi io direi Paolo iniziamo da GS1 Italy e facciamo un giro proprio quindi quale tecnologia magari ricordo GS1 credo tutti sappiate chi sia ma lo puoi ricordare va bene intanto buongiorno buon pomeriggio a tutti grazie per l'occasione di essere qua a raccontarvi qualche cosa anche se molto sinteticamente sicuramente l'obiettivo oggi non è quello di essere esaustivi su certi argomenti però cerchiamo magari di focalizzare alcuni punti che poi semmai si sarà l'occasione di approfondire in sede diversa da da questa ma allora GS1 a GS1 Italy qualcuno magari la ricorderà meglio come indico do indico dei cr per con una battuta siamo quelli del codice a barre nasciamo così 50 60 anni fa quando è stato il codice bar è stata diciamo un'invenzione assolutamente straordinaria in una logica di efficientizzazione della della filiera fra industria e distribuzione oggi per noi il codice a barre è uno è un mattoncino da cui siamo partiti per costruire un miliardo di altre cose potrei cavarmela con una battuta facile alla tua richiesta di introduzione dicendo che in pratica tutto quello di cui abbiamo parlato oggi stamattina e nelle tavole rotonde sostanzialmente non potrebbe avvenire se non ci fossero degli standard di comunicazione che poi sono i nostri e quindi noi fondamentalmente forniamo tutta una serie di standard stati citati anche in alcuni interventi anche adesso nel workshop che si è appena concluso si è parlato molto del gdsn sono tutti standard di comunicazione e insisto sul termine standard nel senso che anche il codice a barre non è un semplice codice mi permetterete questa brevissima parentesi ma insisto a chiamarlo standard perché il codice che voi leggete su un qualsiasi tipo di prodotto oggi e qui in italia è leggibile in tutto il mondo in maniera univoca questo proprio grazie al fatto che uno standard standard che è possibile che esista questo e da altri tipo il gdsn più volte citato stamattina in funzione del fatto che noi facciamo parte di un network di 112 paesi di sedi presenti in 112 paesi al mondo e attraverso questo network facciamo sì che sia possibile rendere univoca la lettura di questi codici di questi standard quindi ok questa è la tecnologia prima ecco invece nuove tecnologie non solo quelle sulle quali lasciami dire magari state lavorando ma in generale dal tuo punto di vista quali tecnologie vedi più importanti che impatteranno magari in abbinamento a lean o non allora non è tanto una questione di abbinamento è una questione proprio di evoluzione di quello che succede nel nostro mondo nel mercato in generale vale a dire la tecnologia il mondo digitale hanno cambiato stanno cambiando radicalmente l'approccio a tante a tante cose e quindi oggi il fatto di doversi confrontare con un mondo digitale completamente diverso da quello che poteva essere anche semplicemente pochi anni fa implica il fatto di dover essere aggiornati dal punto di vista di tutta una serie di nuovi strumenti noi da questo punto di vista siamo sicuramente in prima scusate in prima linea perché evidentemente è molto importante il fatto che noi possiamo leggere tutta una serie di trasformazioni questo noi le leggiamo anche per il fatto che quando noi parliamo di gs one italy parliamo di una struttura collegata direttamente e governata passatemi la traduzione dal da governance dal mondo dell'industria della distribuzione e quindi il nostro contatto quotidiano col mondo delle aziende fa sì che sia un continuo aggiornamento su quelle che sono le necessità e i bisogni marcello invece voi fate un mestiere tu sei amministratore gatto un'azienda che fa un mestiere particolare se magari spendi anche tu un secondo a dire cosa fate per poi tornare a quelle tecnologie più impattanti se ho capito bene voi siete una piattaforma per la iot per far parlare le cose gli oggetti esattamente diciamo che tanto buongiorno a tutti e grazie per l'invito si vivit si pone come un soggetto che permette di connettere a un altro protocollo globale che è l'http il web di connettere oggetti non dotati di un'elettronica propria oggi la iot riguarda tutto ciò che è considerato attivo gli elettrodomestici le automobili e così via restano fuori da questo gioco tutti gli oggetti che appartengono alla nostra quotidianità e in modo più importante i vestiti il cibo che acquistiamo mobili le famose anche tre f del della della che sono forza dell'italia food furniture and fashion e quindi raccogliamo la sfida di poter portare all'interno del mondo a iot noi lo chiamiamo internet of everything anche questi oggetti con una logica legata a l'abilitazione da parte del consumatore ma non soltanto di poter raggiungere una profondità informativa su quegli oggetti e di servizio molto più sviluppata di quanto non possa offrire un packaging un libretto di istruzione o un manuale questo appunto si basa sulla sfida di dare una codifica a questi prodotti ogni nostro prodotto è codificato con un suo proprio url che definiamo product passport la carta d'identità del prodotto sostanzialmente che quindi un luogo sul web dove c'è tutto ciò che l'azienda sceglie di condividere col consumatore oggi appunto parlando di tecnologie che stanno innovando enormemente la filiera alimentare io penso in prima istanza lo smart farming perché è quella che sta avendo un impatto concreto a livello di business più forte perché si riesce a misurare un risparmio un vantaggio nei propri processi e questa tecnologia sta rendendo le aziende più virtuose ci puoi scusa ti interrompo ma poi ti lascio andare avanti sul flusso che avevi faccio un esempio per farci capire nello smart farming allora lo smart farming si basa sulla rilevazione di tutto ciò che accade in un campo allo scopo di monitorare la fase produttiva la fase di raccolta e poi di poter reagire in termini di processamento delle materie prime in modo più cosciente e pronto diciamo così queste informazioni che diventano informazioni cruciali non solo per chi in azienda le deve elaborare per rendere più virtuosi i suoi processi ma diventano informazioni cruciali anche per chi al consumo è sempre più esigente e vuole sapere da dove viene il prodotto esattamente quando è stato preparato come e così via bene oggi le aziende si stanno aggiornando stanno raccogliendo questo tipo di informazioni ma c'è ancora un limite nel poterle rendere trasparenti proprio perché sono informazioni di dettaglio che spesso restano un po' imprigionate in un ERP in un production line manager che l'azienda ha il nostro obiettivo è quello di permettere all'azienda di renderle più trasparenti e quindi grazie a questa codifica univoca, a questo product passport che a differenza di un EAN entra nel merito dell'unità di prodotto e non della referenza generica bene si può associare a questo prodotto tutte quelle informazioni di filiera che crediamo possano essere strategiche in fase di vendita chiarissimo, ma guarda proprio non lo so te lo chiedo ma esistono già prodotti, parlo del food ovviamente, con una loro URL esiste anche fuori dall'Italia, ah sì ci dici qualche esempio allora esistono dei nostri clienti che stanno distribuendo dei prodotti con le nostre etichette le nostre etichette poi si configurano semplicemente con un QR code o un tag NFC per fare l'esempio delle due tecnologie che usiamo nel 99% dei casi esistono in Italia, la filiera del vino è quella da cui siamo partiti non esistono solo nel mondo alimentare perché le stiamo utilizzando anche in altri settori come strumento strategico per appunto fare trasparenza ma anche offrire servizi Luca, Luca Grivetta è un osservatorio come head of della divisione tecnologica di Estian che vede in tutto il mondo tutta la filiera quindi anche a te la stessa domanda quali tecnologie vedi più importanti come impatto nel ridisegnare modelli di business e filiere quindi quale famiglia di tecnologie o area applicativa vedi più impattata oggi buongiorno a tutti, grazie ma allora l'elemento interessante è proprio l'inizio dell'adozione delle tecnologie noi abbiamo diverse tecnologie, ne avete citate alcune che sono i sensori, i tag e così via ci sono diversi elementi tecnologici che possono... ci ricordi cos'è un tag in questo contesto? la capacità, come spiegavi molto bene tu di associare qualcosa che possa come dire essere un indicatore univoco del prodotto quindi un QR code richiama il fatto che quel prodotto lì è il numero 1, 2, 3, 4, 5 è quello lì e basta quindi l'identifico il prodotto e gli corrello una serie di altre informazioni che upstream sul tutto il ciclo produttivo sono state raccolte da una serie di sensori sul campo, sul satellite eccetera messe in alcuni database di big data quindi i termini di cui sentiamo tanto parlare in questo momento stanno iniziando a costruire una filiera di tecnologie lasciatelo descrivere in questo modo che supportano la filiera upstream e downstream probabilmente ci sarà qualche cenno sulla parte downstream nella risposta successiva dove sicuramente è la parte più percepita quello che vedono il consumatore quindi il consumatore è la punta dell'iceberg di quello che possono fare le tecnologie ma anche il processo produttivo consente di applicare queste tecnologie faccio un esempio di un'esperienza che abbiamo fatto recentemente proprio perché nel dialogo con i nostri clienti noi riscontriamo molto spesso la difficoltà di rappresentare che cosa si può fare abbiamo realizzato un caso pratico proprio per aiutare le aziende, i nostri clienti anche qui nel caso del vino che ha alcune semplificazioni dove fondamentalmente abbiamo utilizzato la tecnologia della blockchain la tecnologia della blockchain è una tecnologia che parte dal mondo finanziario si è affermata per garantire la transazione la sicurezza di una transazione economica di una moneta virtuale tra due attori e quindi in questo momento è una cosa che sembra apparentemente abbastanza lontana dal mondo fisico e molto basso come la terra del food ebbene noi l'abbiamo applicata al settore del vino andando a raccogliere informazione sulla firma digitale della cantina sulla particella catastale dove è stata coltivata l'uva raccogliendo tutti i dati della tranciatura della somministrazione di fitofarmaci proprio nella data e nel quantitativo quindi anche un sistema di certificazione della veridicità di questi dati la logica blockchain da garanzia maggiore più che certificazione stiamo parlando di autocertificazione in questo momento l'azienda raccogliamo le informazioni sulla data in cui è stata fatta la vendemmia sulla cisterna e tutto questo e l'abbiamo fatto in un caso concreto quindi esiste un vino che è stato prodotto in 6500 bottiglie che ha un QR code in cui tutte le informazioni di questo vino prodotto dalla cantina Volpone in Puglia una piccolissima cantina in questo momento ha un QR code che ti consente di risalire a tutte le informazioni che sono la storia non solo la carta di identità del prodotto ma anche il DNA produttivo del prodotto e consente a chiunque di andare a verificare questo tipo di informazioni che esso sia un consumatore, un buyer per curiosità che informazioni sono in che giorno è stato imbottigliato in che giorno è stato imbottigliato la foto della cisterna 21 in cui è fermentato il vino in questo modo per rispondere all'esigenza di comunicare ai consumatori cosa c'è dentro la bottiglia dove è stato prodotto quali sono effettivamente i criteri di qualità che sono stati adottati per produrre un prodotto italiano di cui è possibile tracciare tutte le informazioni dando la possibilità anche alle aziende italiane di raccontare quelle che hanno maggiore storia quelle che vengono da un territorio penso al Piemonte, al Veneto, alla Toscana che ha la necessità di comunicare all'estero soprattutto quali sono i valori intrinseci del prodotto dato che è bellissimo e abbiamo imparato con il Presidente Eliscia sono vent'anni che abbiamo imparato e tutte le cose che si dicono accadono sempre la domanda è sempre se nei prossimi due anni o tra vent'anni perché tante volte abbiamo dovuto anche con l'e-commerce aspettare a lungo ritorno a voi due visto che ci raccontate cose all'avanguardia quando le raccontate ai clienti quando le proponete è fantascienza è sperimentazione oppure sono cose che iniziate a vedere che un produttore di vini un produttore di prodotti importanti dice se mi interessa lo voglio fare realmente o siamo ancora nella sperimentazione io vai tu prego visto che la domanda la domanda non è parlato prima ne stavamo parlando prima io e lui seduti su quella segnolina lì in prima fila devo dire che negli ultimi due anni il livello di interesse da parte delle aziende delle grandi aziende è aumentato molto su questa tematica sicuramente a favore di questo fenomeno è legato anche un po' all'affetto di comunicazione che si fa sulle buzzword sui big data sull'IoT questo aiutando a far sì che delle aziende che sono secolari come quelle del vino nel settore del vino dal punto di vista innovazione come la chiesa cioè innova una volta ogni 300 anni qualcosa si sta muovendo quindi qualcosa si muove in un'ottica anche molto di comunicazione chiudo con un inciso per darvi una risposta le aziende ho incontrato negli ultimi tre mesi tantissime aziende del settore del vino in Italia il comunicato stampa che abbiamo fatto noi su questa solution è stato tradotto in cinese ribattuto dai media in Sudafrica in Sud America eccetera con nostra anche grande sorpresa devo ammettere quindi si muove qualcosa Marcello aggiungo una postilla noi ci siamo fatti un po' furbi tra virgolette nel senso che il mondo dello smart packaging così lo definisco non si presta soltanto a trasmettere informazioni di filiera trasforma anche il pack di un prodotto in un punto di accesso al mondo digitale dell'azienda e quindi la nostra keyword anche dedicata al mondo del marketing è attenzione tu hai magari milioni di prodotti distribuiti stai investendo molti soldi per portare i tuoi consumatori ad accedere ai tuoi canali a registrarsi usa anche il tuo prodotto questo può essere veicolo in più se lo fai univoco ti porta anche tracciabilità su ragionamenti così l'azienda aggancia anche un utile più percepito che è il valore anche banalmente di un lead registrato grazie aggiungerei una cosa perché nel nostro caso per esempio il tipo di sviluppo che stanno avendo tutta una serie di elementi legati all'e-commerce fanno sì che noi abbiamo degli accordi a livello internazionale con Amazon con Alibaba e quant'altro e a questo punto anche le nostre piattaforme standard tipo immagino stanno diventando assolutamente determinanti in quanto consentono di avere la possibilità anche per chi fa e-commerce di poter trasferire al consumatore tutte le informazioni di etichetta dei prodotti e immagino la banca dati delle etichette fatte dai produttori e che oggi le informazioni di etichetta sono obbligatorie per poter proporre dei prodotti online grazie Alessandra invece marketing manager di Domino Spizzo in Italia allora pizza ricordaci innanzitutto che attività che modelli avete in Italia e poi seppur da un lato più downstream e-commerce quali tecnologie vedete più impattanti e come ricadono a monte sì innanzitutto buongiorno a tutti Domino Spizzo è una multinazionale globale quindi la prima catena di pizzerie a domicilio nel mondo ed è arrivata in Italia da due anni replicando sostanzialmente il modello di business che esiste all'estero ovvero mantenere una promessa di pizza a casa calda circa 70 gradi quindi parliamo di circa il doppio della temperatura rispetto a un trasporto normale a cui siamo abituati entro 30 minuti per quanto riguarda il modello di business Domino's permette anche di avere una sorta di declinabilità nel mercato quindi il prodotto in realtà è un prodotto tipico del mercato la nostra è una pizza italiana fatta alla maniera italiana quindi un impasto tradizionale che produciamo noi quindi ma c'è un film famoso americano che vi cita dove fanno di tutto perché la pizza arrivi in ritardo perché non la paghi in America è così se arriva dopo 30 minuti è così anche in Italia allora per ora non è che non la pagano però hanno uno sconto sull'ordine successivo sui ritardi eccessivi noi lo chiamiamo DOT quindi delivery on time superiore al 90% se parliamo di 30 minuti se parliamo entro i 35 minuti siamo oltre il 97% quindi in realtà le delivery in ritardo sono rarissime quando superiamo una certa storia di accettabilità che quindi è l'ora perché succedono dei problemi operativi allora ricontattiamo il cliente per regalare l'ordine quindi non è ancora così sviluppato come gli Stati Uniti in questo film si nascondevano in bagno quando arrivava il corriere per poi farlo ritornare ed erano degli studenti sì esatto e quindi essendo noi produttori oltre che retailer e soprattutto essendo stati definiti una digital company che vende pizza quindi in realtà non una società di pizzerie quello che la nostra società e il nostro modello è impermeato sulla tecnologia noi ovviamente non siamo creatori di tecnologia ma siamo fruitori di tecnologia quindi guardiamo a ciò che il mercato propone e che potrebbe essere in linea con le nostre con le nostre esigenze ovviamente andiamo a guardare quelle che sono le fasi di presa dell'ordine cioè quindi la tecnologia applicabile nella fase di presa dell'ordine nella fase di consegna e nella fase di gestione del punto vendita per esempio una tecnologia che in questo momento è sotto il binocolo di dominos a livello globale è tutta la parte che riguarda il comando vocale quindi la messaggistica vocale questo parte da un'esigenza che è quella dei millennials della generazione Z che neanche più scrive su whatsapp ma parla per intenderci e quindi tutta una parte di sviluppo sia di presa dell'ordine quindi consumer ma anche per esempio una gestione dell'inventario vocale quindi in alcuni mercati dominos stanno testando e a breve lo faremo anche noi l'inventario vocale che aiuta e semplifica tutta la parte di chiusura del punto vendita perché permette di non faccio un esempio di parole di questo inventario sostanzialmente quello che accade adesso perché il nostro store viene gestito tutto digitalmente non passa carta l'unica fase in cui esiste un report che poi viene reinserito nel sistema è la fase inventariale quindi c'è una lista che viene spuntata la quantità di stock esistente a fine serata invece di farlo manualmente quindi con degli errori semplicemente l'operatore davanti alla bilancia pesa e parla a un'app quest'app immediatamente registra quindi è 2 kg di pomodori 3 kg di farina 2 case di quindi l'uso del quando vocale lungo il processo proprio non il cliente che interagisce col device ma proprio la produzione sì perché noi siamo anche produttori quindi essendo noi molto attenti alla tecnologia andiamo a vedere anche l'utilizzo che la tecnologia potrebbe di cui si potrebbe fare per la parte operativa così come nella nella consegna cioè in questo momento per esempio per noi in Italia abbiamo in due anni abbiamo raggiunto una flotta di oltre 250 scooter per intenderci che si muovono sui vari store a seconda dei picchi di delivery quindi l'esigenza anche di capire che motorino sta in che store quindi in questo momento stiamo testando una tecnologia con dei transponder che abbinino il driver al motorino quindi in ogni momento anche per non so le infrazioni io so chi ha commesso l'infrazione piuttosto che un uso di tante tecnologie diverse ci ha detto il comando vocale come importante ma anche l'uso della tecnologia da tutte le parti in tutti i pezzetti di processo esattamente se torno invece su Paolo parlando di tracciabilità il prodotto italiano food ha un problema gigantesco nel mondo di contraffazione poi lo chiedo magari anche a voi se avete qualche esperienza mi chiedo se tutta questa tecnologia che sta arrivando può potrà aiutare il problema della contraffazione del cibo italiano nel mondo e se sì se come cioè esiste già qualcosa di concreto in fase di progetto ma dunque allora il discorso della tracciabilità è un discorso sicuramente fondamentale su questo non si discute d'altronde ci si riallaccia in qualche modo ai discorsi che venivano accennati anche prima come seguire poi il prodotto in tutte le sue fasi e noi sicuramente siamo coinvolti in questo tipo di ragionamento nella misura in cui i nostri codici identificano una determinata categoria di prodotto però esistono anche altri sistemi che identificano il singolo prodotto e quindi a questo punto c'è la possibilità veramente di poter ragionare in termini di tracciabilità in maniera molto pesante tutto ciò ha evidentemente un fine non banale parlando di food che è quello a vantaggio del consumatore evidentemente e questo è per noi un elemento determinante noi lavoriamo con l'industria lavoriamo con la distribuzione cerchiamo di lavorare in una logica di facilitazione di semplificazione dei rapporti fra questi due mondi e è chiaro che nel momento in cui riesce a efficientizzare la filiera porti a dei vantaggi concreti direttamente al consumatore e anche il discorso della tracciabilità rientra evidentemente in questo tipo di analisi poi esistono in realtà tante altre cose perché per esempio non è soltanto un problema di tracciabilità nel portare dei vantaggi ma ci sono anche degli aspetti per esempio che legano molto questi discorsi con il rispetto dell'ambiente piuttosto che tutta una serie di vantaggi che si possono ottenere con delle pratiche che vanno nella logica della sostenibilità ambientale e anche da questo punto di vista noi interveniamo con una serie di servizi barra tool che sono stati sviluppati proprio per consentire alle aziende di fare delle simulazioni per esempio sull'impatto ambientale sulla scelta logistica su tutta una serie di aspetti poi oggi ahimè non c'è evidentemente il tempo di entrare nel merito dei singoli argomenti marcello invece voi mi sembra di capire lavorate più sul packaging sul prodotto cioè scusa sull'imballaggio sul packaging primario il prodotto dentro la casa che potrà parlare con un frigorifero o può già perché sono già in vendita quei frigoriferi mi chiedo c'è una riflessione anche sullo spreco del cibo dentro le case visto che c'è un osservatorio italiano che dà dei numeri che fanno paura di quanto cibo compriamo ci portiamo a casa e poi non utilizziamo queste tecnologie voi avete progetti in tal senso allora faccio una piccola postilla sulla sull'anticontraffazione perché è è una delle tematiche che abbiamo voluto affrontare anche noi direttamente ma il mondo dell'anticontraffazione è una scienza imperfetta non esistono soluzioni che possano squalificarlo definitivamente riteniamo che la possibile codifica di un prodotto la codifica univoca di un prodotto sia l'unica strada percorribile proprio perché è quello strumento che ti permette di dire hai il tuo numero di passaporto sei originale magari notarizzo su blockchain una prova di produzione cosa che abbiamo sperimentato anche noi proprio perché è uno strumento per dirti l'ho prodotto oggi e ti firmo digitalmente che sono il produttore che rivelo sul pack questa forse è l'unica strada ed è anche una strada legata allo spreco il tema dello spreco è un tema che deve vedere l'alleanza dei grandi brand food con chi si occupa di elettrodomestici perché poi in bella sostanza se il frigorifero non è intelligente oppure se non ho uno strumento come sono adesso stanno entrando nelle case soprattutto degli americani arriveranno anche qua questi assistenti vocali con risvolti anche un po' preoccupanti su tutto ciò che sono in grado di fare se io non riesco ad avere un servizio che capisce quando compro che cosa che date di scadenza ha questo che cosa ed è in grado di dirmi attenzione è in scadenza purtroppo con l'EA non lo posso fare ho bisogno di avere dei dati di dettaglio ulteriore quindi esattamente lo strumento non esiste ancora un protocollo globale mettiamola così e quindi la sfida per noi che proponiamo una nostra codifica è molto attuale ma è difficile che si diventi uno standard da questo punto di vista vedremo che cosa che cosa succederà parlando di tempistiche secondo me questo è un qualcosa che se ne parla da molto tempo ma è ancora di là da venire ok grazie Luca invece parlavamo prima anche prima facendo due chiacchiere di l'insieme di tecnologie che voi portate lasciami dire proprio sul campo nell'azienda agricola ecco mi chiedo quali saranno i benefici più nel breve termine cioè se saranno benefici di redditività per le aziende se saranno benefici più ambientali se saranno benefici più di qualità quindi tutto questa che io chiamo agricoltura smart tu hai usato un termine più bello ma che lascio pronunciare a te precision agriculture quindi agricoltura di precisione giusto ecco dov'è che vedi i benefici nel campo cioè l'ambiente e il margine per l'operatore ci sono tre categorie di benefici c'è un beneficio economico e di marginalità anche perché se no non sosterebbe nessun tipo di investimento da parte della filiera in quest'ambito che è legato alla capacità di lavorare su coltivazione di maggiore qualità se prendiamo esempio la filiera del grano l'Italia non produce una quantità di grano di alta qualità sufficiente per consentire di soddisfare le necessità produttive delle aziende italiane che producono grano e quindi ci sia previsione dal Canada dalla Grecia e così via quindi precision agriculture vuol dire avere la capacità di monitorare livelli di irrigazione di sole eccetera per lavorare in modo più preciso sulla coltivazione ok questo consentirà di avere delle produzioni migliori più efficienti quindi su tutta la filiera di riuscire come dire ad lavorare in modo più fine utilizzando la tecnologia cosa che in questo momento l'agricoltura primo settore ancora sotto certi punti di vista è ancora abbastanza tradizionale e quindi questo porterà sicuramente dei benefici di ordine economico il secondo beneficio è sicuramente legato al tema della sostenibilità il fatto di poter come dire non sparare a masse sulla quantità di acqua utilizzata piuttosto che sul corretta corretto utilizzo di additivi o di altre tipologie quindi tanti benefici in ogni aspetto un po' di beneficio l'ultimo è proprio legato in realtà alla capacità di riuscire a spiegare ai consumatori la storia dei prodotti la qualità dei prodotti rispondendo ad un'esigenza che è legata al cambiamento di consumo dicevamo prima e soprattutto negli Stati Uniti che di solito sono come dire nella nostra immaginario molto più orientati del junk food in realtà i consumi si stanno spostando dal fashion al food quindi soprattutto la parte dei giovani delle catelli food di qualità food di qualità con grande attenzione a che cosa si mangia at home out of home con la qualità e con la necessità di avere questo tipo di informazioni quindi c'è anche la possibilità di lavorare su autopline quindi su usare questa cosa comune è un vantaggio quindi benefici su tutti i fronti anche poi sul consumatore grazie Alessandra ti lascio l'ultima battuta che mi sembra aver colto prima ci hai parlato di come usate le tecnologie in ogni passaggio in ogni processo però la vostra caratteristica è che la tecnologia amplia l'esperienza del cliente che è un concetto legato proprio al vostro modello cosa vuol dire in cosa si traduce questo ampliamento dell'esperienza per il cliente si esattamente come negli esempi appena citati alla fine tutti questi strumenti vanno a arricchire quella che è l'esperienza della marca l'experience e su questo noi stiamo fondando una diciamo una brand experience allargata cosa vuol dire che ogni volta che parliamo di food qualsiasi comunicazione legata al food generalmente è collegata all'atto del consumo come mi fa sentire quel prodotto come mi sento che performance ha ma il nostro modello è molto più complesso perché io amo dire che la nostra brand experience è fatta di tre fasi la fase dell'ordine la fase dell'attesa e la fase del consumo e mentre nella fase del consumo posso essere presente col mio prodotto nelle altre due fasi sono presente con la mia tecnologia che non è la mia tecnologia in assoluto ovviamente cioè non è uno strumento tecnologico inventato da me ma è uno strumento tecnologico utilizzato quindi nella fase di presa dell'ordine per intenderci l'experience è engagement quindi è offrire modalità diverse di presa dell'ordine che possano essere anche divertenti ingaggianti che possano permettere la personalizzazione per esempio per il lancio dell'app abbiamo detto ok noi siamo una digital company selling pizza vogliamo una modalità d'ordine che sia in linea con le esigenze dei millennial qual è il gesture digitale mobile lo swipe che è stato inventato da tinder e che sempre di più viene utilizzato per la creazione di app quindi swipe destro accetto swipe sinistro scarto una delle modalità offerte di navigazione nella nostra app è proprio questa quindi anche l'interfaccia presenta diverse pizze e faccio scattare il match o meno con la pizza che preferisco esattamente come una delle app più famose che viene utilizzata poi dal nostro target di riferimento questo è un esempio di fase di presa dell'ordine così come lo è per esempio il tracker che è uno strumento brevettato dominos che permette di attendere cioè l'attesa generalmente quando si ordina a domicilio la pizza è la cosa più noiosa perché ho già fame mi sono già fatto la bocca e solo aspetto che arrivi il tracker permette di seguire minuto per minuto in che fase si trova la pizza chi me la sta facendo e il nome di chi me la porterà quindi spesso avviene che i nostri clienti ci accolgono alla porta ciao Mattia perché quello è Mattia grazie appunto a tutta una serie di tecnologie che risiedono dietro al modello ecco grazie 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 aver partecipato era l'ultimo workshop quindi lascio una chiusura allora vi ringrazio e chiedo quindi un applauso di chiusura di questo workshop e grazie ai nostri partecipanti